buongiorno ragazzi sabato 2 ottobre 2021 sono quasi le 8 sono appena entrato nel bosco spero di trovare qualche bel porcino grazie a tutti finalmente che bel pezzo era ora dopo tanto camminare finalmente il bosco ci regala qualcosa grazie a tutti sono le 12 e un quarto ragazzi dopo oltre 10 chilometri nel bosco ho trovato chiodini mazzi di tamburo qualche finfarla e due porcini di numero la stagione continua ad essere alquanto magra adesso riproverò un'uscita fra una settimana sperando che il freddo non dia la mazzata finale a quest'anno vi ringrazio per aver guardato il video e arrivederci probabilmente al 2022 vi ringrazio per aver guardato il video vi ringrazio per aver guardato il video vi ringrazio per aver guardato il video vi ringrazio per aver guardato il video